Nascence è il nuovo titolo di Dream Painters Software. A nove anni dalla pubblicazione del titolo di debutto, Anna, la trilogia horror, sta per vedere finalmente l'uscita di un secondo capitolo ambientato nel medesimo universo narrativo, che approderà prima su PC e poi su PS5 e Xbox Series X e S. Abbiamo provato Nascence con grande curiosità, lasciando che il gioco ci conducesse nuovamente tra gli splendidi paesaggi della Valle d'Aosta, e in particolare nel villaggio fittizio di Re Lunè. È lì che il protagonista dell'avventura, Thomas, deve recarsi per recuperare le ceneri della strega e capire che fine abbia fatto il suo amico Mark, che aveva ricevuto lo stesso incarico. Quella che ci è stata fornita dagli autori di Nascence è una demo giocabile che presenta alcuni puzzle che troveremo nella prima parte dell'avventura. In questa fase Thomas raggiunge il villaggio in una notte di luna piena, che si riflette nelle pozzanghere e illumina le strade e le case. L'uso di una torcia elettrica è comunque fondamentale per portare a termine il primo incarico, trovare il generatore principale e attivarlo perché i lampioni di questa località fittizia valdostana si accendano, consentendo di procedere con le esplorazioni. Si parte dal museo del villaggio alla ricerca di qualche indizio utile, dei negativi in bella mostra sul bancone all'ingresso, delle maschere misteriose esposte in una sala adiacente e un passepartout. Fin dalle prime battute ci si rende conto che qualcosa non va. Dove prima c'era un posto vuoto compare una nuova maschera, quella della strega Anna. Sembra che la sua presenza vada di pari passo, con una sorta di muffa che aggredisce rapidamente le superfici. Perfettamente giocabile con mouse e tastiera, mentre il supporto per il controller risulta ancora parziale nella demo, Nascence ripropone le meccaniche tipiche delle avventure con visuale in prima persona. È possibile interagire con gli oggetti in maniera molto semplice e aprire l'inventario per utilizzare ciò che abbiamo raccolto al fine di risolvere i puzzle. I negativi a cui abbiamo accennato prima fanno parte di uno degli enigmi, ad esempio, anche se definirlo tale suona strano. Ci verrà chiesto di utilizzare una camera oscura ed effettuare alcune procedure reali per la pulizia della pellicola e il suo sviluppo. Un paio di scatti fanno probabilmente riferimento a porzioni più avanzate dell'avventura, ma uno ci tornerà utile fin da subito. Un altro rompicapo coinvolge delle miniature che riproducono le statue presenti in alcune zone del villaggio, e che vanno collocate sui ripiani di un tabellone rispettando la loro posizione reale nella mappa. Questa non è consultabile dalle opzioni, ma solo visionando il cartellone collocato davanti al museo. Una chiara indicazione di come il gioco provi a stimolarci alla vecchia maniera, evitando eccessive semplificazioni sul piano dell'interfaccia. Carico di valore nostalgico è l'ultimo enigma, che fa partire un'avventura testuale di facile risoluzione, ma non per questo meno inquietante. Ottimi spunti, insomma, e se questo è solo il principio, siamo davvero curiosi di vedere il resto. Probabilmente a metà strada, fra un survival horror passivo e walking simulator, Nascence gira su Unreal Engine con tanto di ray tracing e mostra fin da subito quanta strada è stata fatta dai tempi dell'originale Han ad oggi. Il comparto visivo è convincente, con grande atmosfera. L'aspetto è praticamente quello di un doppia A, e sono pochi gli elementi che rivelano la natura indie del progetto, realizzato di fatto da poche persone. Un maggiore grado di interazione con gli scenari, anche magari fine a se stesso, avrebbe aggiunto ulteriore spessore alla fase esplorativa, che risulta volutamente limitata in questa demo. Ci sono poi alcuni glitch legati sia all'interfaccia, sia alla grafica vera e propria, ma da qui a lancio questi problemi verranno probabilmente risolti. Rimangono tante incognite, ma se il senso di questa versione dimostrativa era unicamente quello di presentare le meccaniche dei puzzle, possiamo dire tranquillamente che è stato fatto un ottimo lavoro. Qualche parola, infine, sul comparto sonoro. Il tema principale di Nasens è straordinario, e le musiche in generale sembrano particolarmente curate, anche se al momento servirebbero dei piccoli accorgimenti. Il design audio è dotato di un grande potenziale, e non a caso avrà il compito di contribuire in maniera massiccia alla creazione delle atmosfere e della tensione necessaria per trasformare questa avventura in un'esperienza totalizzante. Nasens è insomma un'avventura horror ricca di atmosfera, dotata di una colonna sonora straordinaria e di un comparto tecnico sorprendente, nonché di un gameplay che per il momento non ha nulla da invidiare a produzioni anche piuttosto blasonate. Dream Painter Software, team di sviluppo italiano di cui fa parte anche il nostro storico collaboratore Simone Tagliaferri, pare insomma aver fatto un ottimo lavoro. La strada che conduce Harry Lunei sembra quella giusta. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina, per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. Grazie. 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 Grazie.